Cambia la scelta dell'amministrazione comunale di Roseto sulla palestra di Cologna Spiaggia. Nell'ultima seduta consigliare è stata illustrata la nuova ipotesi di intervento che prevede la rimodulazione a Cologna di un comparto di circa 8 ettari di terreno ma che non ha mai trovato l'accordo tra i proprietari delle aree. Verrebbero creati quindi due subcomparti, su uno di essi i proprietari, ci sarebbe già un accordo di massima, cederebbero una quota di terreno per la costruzione della palestra ottenendo in cambio la possibilità di realizzare un nuovo complesso residenziale. La struttura sorgerebbe a circa 200 metri di distanza dal plesso scolastico. Per il presidente del comitato palestra di Cologna, Andrea Di Stanislao, la soluzione può anche andare. L'amministrazione comunale ha tirato fuori questa soluzione praticamente è rimodulare la palestra qui con una nuova lottizzazione e siccome praticamente si andrebbe come a instaurare una rimodulazione del vecchio accordo. Ma a quale scopo? Qui diciamo che dove verrebbe la palestra si potrebbe lasciare il verde pubblico e di qua si potrebbe già iniziare la costruzione della palestra. Resta però il termine sottoscritto con la cooperativa Città Futura che nell'accordo di programma che prevedeva la realizzazione di un complesso residenziale in via Defense avrebbe dovuto realizzare la nuova piazza, lavori eseguiti due anni fa e la palestra con scadenza dicembre 2019. È chiaro che i tempi per la nuova lottizzazione inevitabilmente si allungheranno difficilmente quindi la palestra sorgerà prima della fine del prossimo anno. I tempi ho seriamente paura che vengono allungati perché per fare tutte le procedure burocratiche ci vorrà del tempo. Vediamo cosa uscirà fuori. L'amministrazione comunale ad ogni modo potrà riformulare eventualmente l'accordo con la cooperativa andando quindi oltre la scadenza del 31 dicembre 2019 ma la speranza è che il nuovo piano di lottizzazione possa essere sbloccato in fretta per fare in modo che la tanto attesa palestra possa essere costruita entro il prossimo anno.